Allora, Simone Buti, una vittoria molto importante, non solo perché vi porta alla Final Four di Coppa Italia, ma perché è contro una squadra che avete sofferto tutto l'anno. Sì, hai detto bene, è una vittoria molto importante, ci tenevamo a conquistare questa Final Four e le ultime due partite a Verona ci avevano fatto suonare un po' un campanello d'allarme, non avevamo giocato bene, c'era tantissime cose da sistemare, ma insomma in questo periodo abbiamo lavorato bene, in questi giorni liberi, chi era fuori con la nazionale ha lavorato bene e oggi è venuto tutto, questo è il gioco che dobbiamo mettere in campo. Rispetto alla prima di campionato, stessa squadra ma facce completamente diverse. Sì esatto, io l'ho sempre detto, non fa testo, ma anche se si vincevano l'avrei detto, perché comunque dopo due giorni, quindi ce l'arrai.